Ben ritrovati con la rassegna stampa di Tgcom24, il momento in cui andiamo a vedere le prime pagine dei giornali che saranno tra poco in edicola con i loro titoli sui fatti del giorno. Il mattino di Puglia e Basilicata, scontri al vertice tra Matteo e Giorgio sulla corsa le armi per l'Ucraina e poi chi arresterà Vladimir Putin nella parzelletta del mandato di cattura.